What's good y'all? Bentornati nel quarto episodio di The Countdown. Inizio sempre i video dicendo che manca sempre meno e in realtà in effetti mancano tre giorni alla partenza. Quindi per tutti i ragazzi di Salerno che mi hanno scritto in direct, veramente ragazzi è stata una quantità incredibile, non mi aspettavo così tanto love, infatti vi ringrazio. Arrivo a Palermo il 21 di agosto, iniziamo la preparazione il 22 se non sbaglio e oggi ho anche vinto questa coppa raga, incredibile. Giochi dell'oratorio, primo classificato incazzate, quindi sono il cazzaro più grande di YouTube. Ci siamo, voi chiederete perché il quarto episodio è così e facciamo un Q&A al posto di me che mi alleno, vado di qua, faccio cose, perché raga onestamente oggi avevo veramente zero voglia di reccare, di portarmi la videocamera dietro, quindi mi sono allenato con calma, ho fatto un bel triplo oggi, anche perché ripeto la preparazione sta arrivando, quindi voglio veramente essere pronto al salto che faremo il 22, che si inizierà a lavorare veramente seri. E anche per far capire a voi, perché sto facendo YouTube per farvi conoscere, siccome YouTube per me, e dopo ci arriviamo dopo alle domande, siccome YouTube per me per ora è sia un passatempo che lavoro, diciamo così, però lo vedo più come un diario, ovvero che io ho iniziato a fare YouTube perché a 60 anni, 70, voglio mettermi nella mia poltroncina, nel mio divanetto, cliccarmi play sul primo video che ho fatto su YouTube e scorrermeli tutti e vedere che cazzo ho combinato in vita mia. Quindi questo riprende la prima domanda, che è Lorenzo Giovanelli, e mi chiede perché ho iniziato a fare YouTube. È per questo raga, perché voglio creare un diario, siccome a me non piace né leggere né scrivere, e sinceramente penso di non aver mai letto un libro in vita mia, probabilmente un paio, obbligato ovviamente dalla scuola, volevo fare qualcosa che poi mi sarebbe rimasto nel tempo, una specie di diario non scritto. E siccome mi piace interagire con persone, mi piace dare esempi, sia giusti che sbagliati, perché comunque ho 22 anni, quindi anche io sono nel pieno della conoscenza, credo che questi tipi di video, questo percorso che ho iniziato su YouTube, mi porti poi arrivare ai 60, 50, 40, chissà quando mai smetterò, che mi voglio rivedere che cazzone ero e tutti gli errori che ho messo in vita mia. Infatti per tutte le persone, ora non voglio dare le idee anziane, però delle persone over 30, over 40, che guardano questo video, io credo che se loro avessero avuto l'opportunità di rivedersi attraverso uno schermo, quando avevano tipo 18, 20, 22, 25 anni, lo farebbero. Quindi ho detto perché no, iniziamo sta cosa su YouTube. Poi andiamo con la second question, cosa ti spinge a trovare la motivazione per tutto quello che fai? Raga, sinceramente non ci ho mai pensato, però io sono una persona che rispetta tanto le promesse che fa, gli altri che fa se stesso. Vi faccio un esempio, vi ho detto che faccio 6 video in 7 giorni, prima che parta per Salerno, e sto registrando questo video alle 22.10, non so se si vede, di giovedì sera, nonostante abbia zera voglia, perché io con voi sono sempre sincero, abbia zera voglia di registrare questo video. Però lo stiamo facendo perché mi sono fatto una promessa, quindi credo che la motivazione principale che mi spinge a fare quello che faccio siano le promesse che faccio a me stesso, che mi sono fatto nel passato. Quindi questo per me, dare la parola, la parola da uomo, la parola da ragazzo, per me la parola è essenziale. Cioè una persona senza la propria parola non vale nulla. Infatti raga, dite poche bugie perché veramente ce ne va della vostra credibilità. Poi Rostifrosti4 ci chiede, cosa ti ha fatto innamorare di questo sport meraviglioso? Allora c'è da dire, questa raga è spaziale come cosa, infatti mi fa ritornare indietro nel tempo, figata, incredibile. C'è da dire che io amavo il calcio e amo il calcio follemente tuttora. Giocarlo, non guardarlo, perché le partite di calcio guardarle ora mi dispiace raga, però non mi piace guardare le partite di calcio, sono troppo lente. Forse perché ci capisco poco, forse perché ho detto veramente poco, però boh. C'è da dire che verso i 7-8 anni io giocavo a calcio e venivo bullizzato a scuola perché ero così rosso, alto, veramente pesavo 10 chili e venivo bullizzato parecchio. Sono stato bullizzato fino a parecchio, ora ne parlo tranquillamente, me ne frega un cazzo. E quindi una di queste volte che veni bullizzato, perché comunque raga io ero veramente alto rispetto a quelli che mi prendevano di mira, decisi di reagire e il professore, il maestro al tempo, lo scoprì e lo disse a mio padre. Mio padre disse no, devi smettere di far questo, quindi mi fece smettere calcio. Mio padre non dirà mai che è vero, ma raga è così, no cap. Comunque babbo, un love perché giustamente ti ringrazio per avermi fatto smettere calcio, per avermi fatto iniziare basket. Quindi mi costrinse, tra virgolette, anche per la mia altezza e statura a provare basket. E io mi ricordo ancora raga il primo momento in cui toccai una palla da basket, c'era questa scesta metallica dove mettono tutte le società questi palloni da basket, non ci arrivavo e tipo cascai dentro per prendere il mio primo pallone. Quando in realtà bastava mettere tipo le mani dentro la rete e piano piano spengelo su, ma ero così stupido. Ero stupido prima, sono stupido tuttora. E quindi da quel momento che ho toccato una palla da basket e che sono infilato nella scesta, proprio per prenderla, non l'ho mai più smesso. E mai smetterò probabilmente. Poi c'è Simone Soldotto che ci chiede, cosa si prova ad essere d'ispirazione per così tanti ragazzi? Grazie per ciò che fai. Allora, innanzitutto prego, grazie a voi raga. Ripeto, tutto quello che ho in questo momento è grazie a voi, è grazie al supporto che mi date. E comunque io i primi mesi che fesci social non mi sono reso conto dell'influenza che avevo su tantissimi ragazzi. Quello che voglio fare con i social raga è farvi capire che la vita, uno, non è semplice. Due, che la vita è molto problematica e quelli di maggiore successo sono quelli che risolvono i problemi più velocemente. Infatti la vita raga è un problem solving, basta chiederlo anche ai vostri genitori raga. E io comunque te, come terzo, cerco di portare un buono esempio alla mia community, comunque una community giovane che aspira a tanto. Quindi la vita da atleta, che è una vita sana, salutare, di impegni, dedizioni, sacrifici. Quindi raga sì, cioè io vorrei essere d'ispirazione a voi. Vi faccio un esempio, se mai tra 5-6 anni mi dovesse scrivere un ragazzo, cosa che succede già tuttora. Mi scrive un ragazzo, mi fa guarda Matti, io sono arrivato in serie A, a due perché, grazie, perché sei anni fa con i video io volevo mollare e mi hai dato quella motivazione in più, raga, a me fa strapiacere. Cioè questo è quello per cui faccio social, capite? Marco Andrade, 04, mi chiede quando nuovo materiale Advantageness. Per chi non lo sapesse, Advantageness è il mio brand. Ora io mi alzo, raga, non dirò niente. Fatemi solo sapere qui sotto nei commenti se vi piace oppure no. 12 Bonte ci chiede che sensazione hai provato alla tua prima partita al college. Raga, io mi ricordo che entra in campo, la prima partita non ero titolare. Entrai in campo e provai una sensazione di paura incredibile. Perché comunque ci tengo a dire che non è un discorso razzista, però giocando in Italia giochi veramente con persone che fisicamente non sono sviluppate troppo, ok? Certo ci sono quelle due, tre persone per squadra che hanno altri tipi di fisici, ma raga, io la prima volta che entrai in un campo americano, vedi la squadra opposta, tutta di colore, tutta sopra i due metri. Probabilmente il playmaker era un metro e novanta, raga, ma cose folli. Che avevano dei bracci così, quindi io mi sono veramente caccato addosso. E mi ricordo che li guardai, tipo, loro mi guardavano e mi faccio watch one, like, uno mi faceva watch one, che io veramente li stavo fissando. Comunque la prima sensazione che provai alla partita al college è stata la paura. Poi, ovviamente andare con la partita passa tutto e giocare a pallacanestro, però la prima paura. Ora abbiamo la domanda che tutti mi fanno e non ho mai risposto. Tom Olo ci chiede perché il nome Mamba Rosso. Allora, c'è da dire che non c'entra niente Kobe Bryant, lui è il vero Mamba, ovviamente. Però questo cognome, questo soprannome mi venne dato quando io avevo intorno ai 10-11 anni, dal mio secondo allenatore se non sbaglio. Perché come il serpente Mamba, il serpente Mamba se non lo sapete è quel serpente, raga, che sta fermo e aspetta che la preda gli vada vicino per attaccare, non va mai a caccia, tra virgolette. E io come tipo di giocatore ero simile, ovvero che stavo, veramente dormivo i primi 2-3 quarti e poi al quarto periodo mi svegliavo. Tipo di low ice in my veins, una roba del genere, day in time, quelle robe là, no? E quindi il Mamba viene da queste partite, me lo dia del mio secondo allenatore e questo soprannome ce l'ho da quando avevo 10-11 anni, raga. Che io non sapevo neanche chi fosse Kobe Bryant per farvi capire. Vabbè, rosso penso che si esprima da sola. Ovviamente, raga, su tutte queste domande ho scelto quelle che reputavo non migliori, però è una conoscenza questa, tra virgolette. Quindi quelle un po' più personali specifiche, domande un po' più emotive per conoscerci, avvicinare per farvi, farvi conoscere la mia persona. Ovviamente da TikTok e Instagram non si può capire troppo. Kalu IQ ci chiede come hanno reagito i tuoi genitori alla borsa di studio per gli estates. Allora, la prima borsa di studio, raga, regirano bene, tra virgolette. Ce l'ha a dire che senza mio padre non sarei andato negli Stati Uniti perché ha fatto tutto lui, infatti, vabbè, grazie. Non lo ringrazio mai, ma ce l'ha a dire grazie. Come reagirono? Ce l'ha a dire che, raga, non me lo ricordo. Però mi ricordo che comunque mi guardarono con quel senso di matte ce l'hai quasi fatta. Cioè erano veramente strafelici per me, ma allo stesso tempo erano comunque tristi perché, nonostante fossero abituati a me che andavo via di casa, andavo a sbarellare, che sono andato via di casa a 14-15 anni, che erano abituati. Io ce ne avevo al tempo 19 quando sono andato negli Stati Uniti. 18 e mezzo, 19 neanche mi ricordo. Però erano felici, raga. Però erano spaventati perché comunque non ero a giocare in Veneto a 5 ore da casa, ero a giocare in un altro continente. Quindi erano preoccupati. Poi con tutti i problemi che si vedono sui giornali, notizie, TikTok dell'America, diciamo che essendo loro che non ci sono mai stati, non ci hanno mai vissuto negli Stati Uniti in questo... per lunghi periodi, erano un po' preoccupati. Però, raga, erano veramente felici e infatti li ringrazio, mi hanno sempre sostenuto. Int1771 ci ha scritto cosa ti ha spinto ad aprire il brand. Ma questa è una storia importante perché io questo brand lo volevo aprire ancora prima di fare social, perché a me mi è sempre piaciuto disegnare. Infatti il primo pantaloncino è stato disegnato interamente da me. Mi è sempre piaciuto disegnare e creare. Io sono sempre una persona molto creativa che crea, 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 sempre mille idee in testa, mille progetti. Quindi un giorno di due anni fa, ancora me lo ricordo, avevo disegnato questo pantaloncino il primo anno che andai negli Stati Uniti, che è Desert. Il pantaloncino Desert, quello che avete visto tutti, che è preso proprio dal fatto che io sono andato a giocare negli Stati Uniti nel deserto, perché Midland era nel deserto. Quindi creai con i colori del deserto di Midland questo pantaloncino e lo dissi, ma perché non apro un brand? Come lo chiamo? Io avevo questa pagina di resella ai tempi, perché resellavo scarpe, mentre giocavo Giulianova. Con poco successo, ci facevo poche centinaia di euro, l'avevo chiamata Advantageness, Advantage Madness. Perché io sono anche pazzo, raga, sono follemente pazzo, pazzo nel buono. Ovvero che se mi conoscesse nel mio privato, quando prendo confidenza con una persona, sono veramente fuori di testa. E quindi Take Advantage of the Madness, che è Advantageness. Le due parole si uniscono insieme, no? E quindi ho detto, ma perché, siccome sono così folle, perché non unire queste due parole e prenderne atto e portare questa follia anche sui social? E quindi ho deciso di aprire questo brand con questo nome, Advantageness, e i primi due drop sono andati da Dio. E keep going, stiamo andando, raga. Infatti fatemi sapere se voi questi pantaloncini li volete droppare o no. Però mi sa che il prossimo drop sarà una felpa. Non so quando, ma sarà una felpina questo inverno. Dimitri Naletto mi chiede, la tua ispirazione nella vita nel basket? Raga, ultima domanda. Allora, questa domanda non ho capito se è ispirazione o aspirazione, che sono due cose diverse. Tu mi hai chiesto ispirazione. Quindi io ti dico, ispirazione, raga, mio padre, perché comunque dal punto di vista di lifestyle è molto simile a me. È una persona che si concentra tanto sul lavoro e poco sul resto. Ho avuto una bellissima conversazione con una mia amica settimana scorsa, riprendendo il video, quello che ho intitolato Smetto di giocare a basket. Ho avuto una bellissima conversazione con una mia amica parlando di proprio questo fatto. Io non ci avevo mai pensato che fossi così tanto simile a mio padre, a livello mentale e caratteriale, perché siamo molto diversi ma molto simili allo stesso tempo. Lui è la mia ispirazione sia nella vita che nel basket, perché è lui quello che mi ha fatto capire che devi dare sempre tutto, tutto, tutto. Però l'outcome alla fine, magari qualvolta, talte volte, non è quello che desideri tu. Però l'importante è controllare quello che devi controllare, raga. Infatti il mio consiglio che vi do, nonostante la mia giovane età e le mille batoste che ho preso a questa età, che ovviamente non sono tante rispetto a tantissime persone nel mondo però, è quello di controllare quello che dovete controllare, quello che potete controllare e non cercate di controllare quello che devono controllare gli altri. Mentre per la mia aspirazione, che ovvero quello che vorrei fare nella vita nella pallacanestro, raga in questo momento non lo so, credo anche che porti un po' sfiga a dirvelo, però sicuramente raga la pallacanestro sarà, è e sarà nella mia vita di sempre, finché non morirò. Vorrei essere sepolto con una palla da basket in braccio, se potete raga. E nella vita, raga, la mia ispirazione è più grande, siccome sono una persona che crede tanto e ci sarà, crede tanto nella Bibbia in Dio e ci sarà un video dove vi spiego da cosa deriva questo mio credo, però la mia aspirazione nella vita è passare, perché secondo me una persona non viene definita da quello che ha, da quello che possiede, ma dall'impatto che ha sulle altre persone. Quindi la mia aspirazione è veramente passare alle altre persone un messaggio positivo e cercare di caricarle nella loro vita, cioè dargli quella carica in più che magari non viene vista. Ora non mi sono spiegato veramente male, raga, spero che comunque mi abbiate capito. E niente, raga, vi ringrazio di aver guardato questo Q&A. Per altre domande, raga, sapete che i mi DM sono sempre aperti. Fatemi sapere se ne volete un altro di questo tipo nei prossimi giorni, mesi, settimane, con calma. Ringrazio tutti coloro che mi hanno fatto domande su Instagram, ovviamente non posso rispondere a tutti, quindi ho preso un po' quelle più significative per me e significative per voi, nel senso che magari un po' più conoscitive. Domande meno specifiche, più sul generale per conoscerci. Non smetterò mai di ringraziarvi per il supporto che mi state dando, perché veramente siete una family, community incredibile, vi voglio un mondo di bene. Quindi raga, mi raccomando, lasciate un like o dislike, come volete, un commentino che mi fa sempre lasciare, inoltratelo ai vostri amici. E raga, ricordate, take advantage of the madness, che siamo un po' tutti fuori nella vita, no? No? Allora, ciao.